se tu vuoi sì no, cosa vuoi fare? di giocare in Italia ancora però se ti chiama ad allenare l'Inter no? è per il mio fidanzato interista al posto di Ibra torneresti in Italia Ibra va bene per noi ma a te piacerebbe allenare l'Inter un giorno? un giorno sì Ibra deve tornare in Italia però l'Inter sì per me va bene per me